bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Low Gamer ed oggi siamo qui con un nuovissimo video non fate caso che sono in pigiama mi sono appena svegliato non faccio ancora gli occhi ho solo avuto il tempo di fare una cosa speciale per questo video infatti oggi questo è il primo video che farò su Clash of Clans perchè ho visto che siccome Clash Royale ha avuto un buon successo faremo anche farò anche Clash of Clans ragazzi quindi date spolliciate, iscrivetevi al canale passate dalla pagina Instagram lasciate un commento se volete altri video su Clash of Clans e non perdiamoci in chiacchi iniziamo subito allora ragazzi io avevo già un account Clash of Clans infatti avevo già un villaggio avevo già un villaggio però siccome mi scoccio sempre di giocare per lo cancello è una cosa strana lo so vabbè allora allora intanto che cos'è qui? cosa volete? niente ok allora ho i barbari al 3 municipio al 5 servono 750.000 si domani mattino perchè non ci arriverò mai allora se lo porto avanti cioè lo miglioro aggiungo 20.000 non mi servono a niente però se miglioro questo qua invece 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 mi servono 100.000 aggiungo l'altro 225.000 cioè proprio big money proprio e lo potrei cioè andrebbe bene ho 902 trofei ragazzi e niente cioè questo è il mio villaggio possiamo andare ad attaccare cioè avete visto ormai info barbari 95 barbari al 3 io attacco solo con barbari ragazzi perchè non mi trovo con altre truppe però se mi potete consigliare qualcosa tipo con i goblin non lo so consigliatemelo perchè ne ho davvero bisogno allora le risorse sono poche ho bisogno di risorse parecchie risorse quindi soprattutto d'oro ecco proprio parlando di risorse non ce n'è una buona che bello ecco potremmo provare questa no perchè c'è quel g quella torre allora andiamo avanti un villaggio davvero ragazzi semplice da distruggere allora no no perchè c'è tutte quelle cose attorno infatti il mortaio mi ha già fatto fuori sei mille d'oro stai verso male zio fatti un po' di attacchi perchè altrimenti non vai più avanti qui mi sono anche accorto di avere delle schifezze come mura cioè ho tutte le mura al 3 mentre dovrei avere tipo al 5 non lo so cose del genere allora no perchè vi prego cioè un villaggio che abbia un pochino cioè non di cosa eh vabbè questo però finchè l'attacco già sono al terzo mondo allora perchè datemene uno buono vi prego vi prego vi prego vi prego vi prego potremmo provare questo non sarebbe male visto che c'è il mortaio anche a costruire non sarebbe male ragazzi io direi proprio di provare questo mettiamoli subito un po' di barbari qua arriviamo a 60 barbari perfetto li buttano giù ora ci mettiamo dei barbari qua i barbari qui cavolo me li ha fatti saltare un bel po' altri barbari qui perfetto abbiamo già fatto una stella ragazzi abbiamo anche preso un bel po' d'oro andate dentro che cavolo loro abbiamo raggiunto un bel po' d'oro ragazzi ci siamo abbiamo raccomandato un bel po' d'oro ma perchè dico io vabbè abbiamo vinto comunque vabbè fatevi il giro eh nooo c'è ok ciao vabbè c'è stato idiot lui che ha messo il municipio là beh noi ne abbiamo approfittato va bene c'è 23 d'oro 23 mila d'oro è ottimo la cosa no che cosa ho fatto ecco ho sbagliato come al solito come al solito ecco mettiamo prendiamoci tutto questo ehi si è stato inserito in una lega 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 argento 3 perchè lega argento 3 quant'è coppia 909 wow pochissime proprio ne ho pochissime non capisco perché sono in arena argento 3 non dovrei essere no bugia no 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 dovrei essere in arena argento 3 allora vediamo anche se possiamo prenderci qualcosa no no vabbè qualche obiettivo da sbloccare no eh guarda fra clan partecipo sì perché mi piacciono le guerre fra clan mi piacciono mi piacciono sì andiamo ad addestrare altro come potete ragazzi vedere io ho tutte queste cose qui solo che non non mi trovo con le altre truppe non mi trovo e quindi uso solo i barbari cosa invece che su clash royale i barbari si li uso ma non esageratamente come qui niente ho visto che dall'ultima volta che l'avevo di città la toppe perché qui c'è una stella la vediamo che non ho mai visto vinci 5 stelle in battaglia molti giocatori per ottenere un bonus la tua lega la ricompensa bonus stella e porca amica ragazzi è davvero ottima la cosa cioè prima arriviamo a 5 stelle è meglio cioè alla grande proprio allora ragazzi per questo video su clash of clans credo sia tutto vi ho fatto vedere il mio villaggio dovrebbe essere abbastanza bello se mi potete dare dei consigli su come modificarlo sulle truppe tutti i consigli che volete li accetto ragazzi perché ne ho davvero bisogno sia su clash of royale per qualche deck o per clash of clans qualcosa non lo so tipo cambio delle mura non lo so fate voi e ragazzi per questo video è tutto vi invito sempre come prima a lasciare un bel pollicione in su e iscriviti al canale siamo arrivati a 25 iscritti e a passare dalla pagina instagram il telefono è lì il telefono vedete il telefono è lì non si vede vabbè nicolo castrovilli il profilo instagram e ragazzi per questo video è tutto ci vediamo alla prossima ciao ciao